Cresce la preoccupazione per i circa 2000 migranti che sono bloccati al confine tra Kuznica e Brzgi, con la Polonia che si rifiuta di farli passare e accusa la Bielorussia di impedire loro di lasciare la zona. La parte bielorussa sta facendo di tutto per fornire assistenza. Abbiamo organizzato la fornitura di acqua al campo, ora non c'è alcun problema di acqua, così come legna da ardere, cibo, vestiti, coperte e così via. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko intanto minaccia ritorsioni contro eventuali nuove sanzioni dell'Unione Europea contro Minsk per lo stallo dei migranti attraverso il blocco di gas e altre merci che transitano in Bielorussia. E arrivano anche le reazioni di Vladimir Putin. Onestamente è la prima volta che sento parlare di ritorsioni perché ho parlato con Lukashenko di recente e lui non mi ha mai parlato di questo, non ha nemmeno accennato a questo, ma probabilmente può farlo, anche se non ne verrebbe nulla di buono e io naturalmente gli parlerò per capire se non l'abbia detto per semplice irritazione. Poi Putin ha aggiunto anche che è necessario stabilire un contatto diretto tra Unione Europea e Bielorussia per risolvere al più presto la crisi dei migranti.